E' stato sorpreso a piedi in centro ad Arezzo con un chilo e mezzo di hashish diviso in panetti con su un adesivo con una copia del marchio Louis Vuitton, nascosti dentro ad una busta di plastica della spesa. In manetta è così finito un 25enne e a retino. A fermarlo una pattuglia dei carabinieri che hanno notato l'atteggiamento nervoso del ragazzo ed hanno deciso di controllarlo, così hanno scoperto che all'interno della busta c'era lo stupefacente suddiviso in 15 panetti. Quindi è scattato anche il controllo nell'abitazione che si trova sempre in città. Qui sono stati trovati e sequestrati materiali utilizzati per il confezionamento dell'hashish. Secondo l'arma la droga sul mercato dello spaccio avrebbe fruttato circa 30.000 euro. Il 25enne è stato arrestato e posto ai domiciliari a disposizione della procura della Repubblica che ha disposto il processo per direttissima ed intanto proseguono anche le indagini dei carabinieri per cercare di capire dove era destinato quello stupefacente e quali potevano essere i canali di distribuzione.